Ciao ragazzi, bentornati al format delle domande Oggi portiamo direttamente da Napoli Perché ci troviamo a Napoli qua, diciamolo Sì, la Napoli milanese La Napoli milanese In realtà non siamo a Napoli, scusate, a Rozzano Siamo a D'Assago, che è appiccicata Dove c'è il forum, dove verrai a vedermi in live Lo spero Con il club Dogo Un sacco di domande a Simone Crispo Infatti come sempre vi ringrazio Adesso dobbiamo selezionarle, anzi le abbiamo già selezionate E tu devi essere pronto perché Alcune magari ti mettono in difficoltà Altre dirci, ok, vabbè Sarò più sincero possibile Perfetto, l'importante è questo Partiamo con la prima domanda La fa Talox Un saluto a Talox Se potessi cambiare una cosa nella tua vita, quale sarebbe? Hai solo un'occasione Questa è una bella domanda Porca parola, bravo Talox Talox è un esperto mentale Allora Ti dico niente perché la vita che ho condotto Fino adesso comunque mi piace Quindi niente Quindi niente, ma in realtà perché mi ha preso su due Cioè nel senso, se ci pensi un attimo Se ci pensi Allora, se facciamo sto discorso Qua Senza videocamera la sera Davanti a una birretta mi dici I soldi? Forse sì Forse sì Quella è forse l'unica roba Avrei voluto avere più soldi Forse Quello dici Vabbè sti cazzi però Era un po' troppo scontato Anche perché se non volevo Lino Polverino chiede A volte vorresti essere distaccato dai fuse Questa è una domanda che sicuramente ti aspettavi Mi aspetto domande sui fuse E ti dico mai Ma soprattutto perché a noi ci lega un legame di parentela Prima che il legame diciamo professionale, lavorativo insieme Quindi non vorrei mai staccarmi da loro Sono nato con loro Li conosco da quando sono Cioè Antonio e Mirko mi conoscono da quando sono nato Io conosco Andrea da quando è nato Quindi è impossibile Eh beh è chiaro Danax chiede Qual è il tuo idolo? Cristiano Ronaldo Aspetta Sì Cristiano Ronaldo è il tuo idolo? Sì Da sempre fra Davvero? Ma ti giuro Ronaldo Messi Non ho mai detto nella mia vita Messi Eh ci sta Anzi la differenza per me è che tipo Ronaldo Ci puoi arrivare Messi ci nasci Eh beh certo Quella è l'oggettiva spiegazione del paragone Samu chiede Qual è stata la tua reazione quando ti hanno chiamato al Napoli Te la ricordi? Eh porca d*****a Sì che me la ricordo Sono passati ormai penso 12 anni Vata 12 anni? È perché io ho giocato a 13 anni Stavo nel Napoli Adesso sono 24 11 anni 25 quindi 12 Allora la mia reazione è stata Che io stavo a mare Papà ebbe la chiamata Perché ovviamente eravamo merenni Papà viene a prendere a mare in macchina Con mamma E mi disse la cosa Io all'inizio ero incredulo Cioè nel senso non ci credevo Però papà mi disse Sì domani dobbiamo andare a firmare a Castelvorturno Che sarebbe dove sale nel Napoli E io non ci credevo Comunque io per entrare nel Napoli Ho fatto solo un provino Mentre ho sentito gente comunque che per entrarci Eh sì sì Ho fatto 10 provini I vari stage e tutto Io feci un provino Giocai solo il secondo tempo E feci 4 gol Quindi mi presero Però ti giuro L'emozione Quando mio padre disse Domani dobbiamo andare a firmare A Castelvorturno Non la dimenticherò mai Non so come ricordo Come ho reagito Però sicuramente l'emozione Ce l'ho ancora dentro Certo Abbiamo raccogliato la dimenticherò Abbiamo raccolto le lattughe dietro Abbiamo visto il nostro fratello qua Che ha preso le cime di rapa Qua non so dove Ci hanno lasciato un paio Nel frattempo dietro i fratelli giocano a ping pong E noi continuiamo il video Che tanto fa ambiente il ping pong Sei vergine? Sono leone Beh no dai Non sei vergine No 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 Ragazzi 25 anni Eh che c'entra Non sono un cristiano Che è fatto dopo il matrimonio Fabio chiede Perché non vai a Muchachos? Perché non vai a Muchachos? Praticamente allora Quando la gott è iniziata La prima summer cup della gott I Muchachos Ovvero i Fusegamer Non avevano ancora la squadra Mi contattò Sespo Per andare appunto negli Olimpo E una volta iniziato il percorso con loro Poi dopo Dopo se mi sbaglio La winter Sono entrati i Muchachos Sì Ovviamente Mi hanno chiesto di andare con loro Però io ho iniziato il percorso con gli Olimpo E quindi almeno il campionato E la winter Volevo finirlo con gli Olimpo Il futuro Non si sa Eh beh certo Lorenzo chiede Progetti futuri Ad esempio andare a giocare in promozione eccellenza Allora progetti futuri Lo dico qua per la prima volta Attenzione A breve mi trasferisco a Milano Quindi lascerò la mia amatissima Napoli Mamma che fatica Mi trasferisco Credimi Credimi è tosta Tanto tanto tosta Perché sono molto legato a Napoli Fatica Progetti futuri Vedrete sul canale Ovviamente mi trasferisco a Milano Per migliorare la qualità dei video E per portare altri video appunto Quindi restate connessi Nicolò chiede Cosa ne pensi degli scherzi E delle battute Su Napoli Sulla Napolicittà Diciamo Allora guarda C'è una linea sottilissima Tra razzismo e scherzo Questo è il fatto Adesso bisogna Essere bravi a capire se uno lo fa per scherzo realmente Oppure se mette cattiveria nelle parole Io sono super aperto su queste cose Cioè se a me mi prendi in giro a Napoletano A Napoletano A me non mi interessa Però nel momento in cui vedo che c'è cattiveria Comunque stiamo parlando di razzismo In questo caso E dovrebbe essere fatto diciamo Però Besuvieri Sì ma Ste cose ci sono cazzate Cazzatelle queste Capito Ma tu senti come canta la Milano quella Ma pure Napoletano Ti piace lasagna? Poi dimmi di no dai Ma lasagna Non so una lasagna No no Vabbè D'Agnese È una bellissima ragazza Non sono l'unico a dirlo C'è l'Agnese Un bacione Un bacione ad Agnese Intervisteremo Che è la tua ispirazione sia per Youtube Sia per il livello calcistico Allora Ispirazione su Youtube Posso dire Di prendere ispirazione Dagli americani Cioè non c'ho un vero e proprio idolo Su Youtube Vabbè chiaro Perché io comunque non seguivo molto Youtube Prima di entrarci Ti dico la verità Uguale io Non ero il tipo che si metteva a vedere i video E tutto Uguale io Quindi non ho un idolo Però ovviamente prendo spunto dai video americani Su vari format che ho fatto Ovviamente per il vlog Prendi spunto da Jay Pat È normale Io ho fatto il vlog sulla nazionale Perché ho visto il Jvlog ragazzi Però c'è diversi C'è lui qua come protagonista Il mio shorts L'ultimo shorts C'è lui protagonista Dopo la facciamo Che rapporto hai con Andrea Fratino? Andrea Fratino Per me è mio grandissimo amico Noi abbiamo legato subito Ci siamo conosciuti un anno e mezzo fa E ti giuro Penso la stessa cosa come è successa con te Che al primo incontro Sembrava che già ci conoscessimo Da tipo vent'anni Capito? Poi lui Mezzo napoletano Viene spesso a Napoli Io quando salgo a Milano Comunque Sono sempre ospite a casa sua Di Simone Quindi Dovrò ringraziare Gli devo tanto ad Andrea Diciamo Diamo un po' di affitto Se ci dovesse essere una buona occasione Ti trasferiresti a Milano Abbiamo già risposto Bravi però Vorresti cambiare squadra Ti piace la bel sito e rimarrai là? Allora Il fatto che comunque Mi trasferisco a Milano Vi può dare un indizio Adesso non so Se comunque la categoria Sarà più alta Più bassa Non so se Giocherò assieme Altri personaggi nel web Questo lo scoprirete Ma la play to give La play to give è più bassa No La play to give Sì E non posso fare A vedere che fai i video Li fa la zata pure Ti piace J-Path Sei gay Terrone di me Cioè Allora così tipo Mi metto a ridere ovviamente Tornando al discorso di prima Poi si mi fa ridere Capito? Che non sappiamo Se questo è realmente Magari questo è di Napoli Sì 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 Chi scegli fra Milano e Inter? Posso evitare di scegliere Inter No in realtà guarda Io non tifo tanto Napoli Ma dice a me questo è il fondo Cioè Fatto mio No io non tifo Gioco a calcio A me non piace guardare le partite Io non sono tifoso del Napoli Cioè ovviamente preferisco Mi fa piacere se vince il Napoli Comunque Guardo le partite Ma le guardo semplicemente per Perché abbiamo un'usanza Da un mio amico Andare sempre da lui A vedere le partite Però non lo faccio per passione pura Cioè Se il Napoli perde Sticati Capito che dico Cioè il Napoli quest'anno Sta andando male Bravo Bravo Napoli Comunque Inter Eh andiamo Hai mai fatto un trisome? Beh chi ti ha consente Andiamo avanti Oh bella questa Obiettivi futuri Allora obiettivi futuri E comunque migliorare Il canale YouTube E perché no Creare nuovi video Nuovi format Da portare per voi E fare tanti soldi Ma io ovviamente Perché è la cosa principale Sono gay sword Hai mai pensato di abbandonare il calcio Se sì per quale motivo? Allora Hai mai pensato L'ho pensato L'ho fatto fondamentalmente A 17 anni E abbandonare il calcio Uno perché vabbè Mi sono infortunato Però diciamo Non è quello il motivo principale Per il quale ho abbandonato Il calcio Ma semplicemente perché Purtroppo a certi livelli In certe categorie Categorie Non categorie Però in certi ambienti giovanili Comunque il calcio è un po' Una merda Purtroppo Madonna Perché comunque Non dico Ci sono raccomandazioni E tutto Però è anche difficile Perché un ragazzo di 16 anni Tu lo puoi capire Penso come me Un ragazzo di 16 anni Che si trova ad allenarsi 4-5 volte a settimana La partita la domenica La trasferta ogni due settimane Comunque è tosta mentalmente Io comunque A 17 anni Quando ho abbandonato il calcio Ho tra virgolette Ho iniziato a vivere Perché ho iniziato a scendere La serata Conoscere più persone Quindi anche il fatto La novità Di non fare allenamento Tutta la settimana Di non giocare la domenica Mi piaceva quella novità Ed è questo stato il motivo Per il quale Abbandonato il calcio Però un anno e mezzo E me ne so pentito E' vero Tutti capito Quello così funziona purtroppo Crispo Ma tu eri a mare fuori Come attore Io non lo sapevo questa No ho fatto Una comparsa Ho fatto una comparsa Come attore Ce ne saremmo accorti Impossibile Ce ne saremmo accorti Feci una comparsa Dove mi ricordo benissimo Che erano tipo Una delle prime scene Che registravano Non sapevano ancora Come chiamare la serie Niente E' improvviso Il boom esagerato Capito Poi sono uscito sui social Perché la puntata Con cui sono uscito io Era prima che io facessi social Ah ok Poi sono uscito sui social E poi la gente se ne è accorta Comunque hanno fatto Vari tiktok Che hanno fatto pure Milioni di visualizzazioni Eh si 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 Ringraziamo i fratelli Che hanno già finito Di giocare a ping pong E' finita Non ha mai iniziato Credo Allora abbiamo una domanda Fantastica Che è sempre lui Infatti scrive Oh no ci risiamo Mick2Ois Hot night con lasagna O vincere tutto Su youtube Allora Hai detto Belen Ti dicevo Belen Porta rispetto a lasagna No sto scherzando Però no 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 Youtube Perché deve dirlo Hai spegnato la telecamera Poi vi faccio Io ho detto Come le iene Mi metto la telecamera sotto Ti piace lasagna Tutti zi Cosa fai di solito Prima di una partita Il tuo rito diciamo Il mio rito Prima di una partita Ti dico Mangio sempre la stessa cosa Ovvero i crostini Con sopra la fila del fiazzero E il tacchino La fisa di tacchino Bro non lo so perché Ma a me mi carica C'è il fatto di mangiare Quello prima di giocare E cosa faccio Mi tengo l'anello Che mi ha regalato mia nonna E vabbè c'è ancora mia nonna E saluto Un bacio amore mio Che guarda youtube Però la vedo Negli amici più stretti Sì 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 Fortissimo Sempre Fortissimo Metto lo scotch sull'anello Prendo il braccialetto Che c'ha anche Mirko Mirko De Fius E me lo metto qui E copro il braccialetto E questo Ma diventa di una partita Due ore prima No vabbè Ci metto un c***o Fra copro qua Copro qua E poi tengo il mio rito vero E entrare Toccare terra Toccarmi due polpacci Perché mia sorella Quando ero piccolo Prima di andare a giocare Mi baciava i polpacci Davvero? Sì e me lo ricordo Quindi tocco terra Tocco i due polpacci E do un bacio Per le mie sorelle Do un bacio all'anello Un bacio al bracciale E tre baci qua A questo polso Per mia madre E mio padre Ti devi ricordare No lo faccio tu No ce l'ho veloce Faccio po 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 Uno due tre Uno e due Fisso Cioè se guardate La mia entrata in campo Sì sì Ma io mi ricordo Sempre così La sorella che io Che tu conosci Eh Il mondo è piccolissimo Era la mia animatrice Cioè la mia Era l'animatrice del vellaggio In cui sono andato io Da piccolo Avevo nove anni E eravamo veramente piccoli E lei era l'animatrice Più bella di tutte Io avevo nove anni Vabbè dai Adesso è sposata È sposata No E quanti anni c'ha C'era 28 anni Ah vabbè Non è sposata Però si è pianzata Comunque un saluto Dav con la maglia del Napoli Chiede Hai mai fatto gol contro il Napoli Sì E godo Perché feci gol contro il Napoli No godo perché l'anno dopo Che mi avevano svincolato Ah davvero Io giocai Andai a giocare al Posiglio Che è una scuola calcio Sì Il Napoli comunque Eravamo ancora piccoli Teneva due squadre Una squadra faceva i nazionali Insieme alle altre squadre Serie A e B Sì E un'altra seconda squadra Tra virgolette Faceva il campionato regionale Che facevo io col Posiglio E li incontrammo nel girone E feci doppietta all'andata E doppietta al ritorno Felicissimo credi Ah Perché poi era una sorta di rivincita Anche Daniele Chiede Qual è il tuo rapporto Con Air Football Sbancatore Guarda Lo conosco Lo conosco poco Relativamente poco L'ho visto Due o tre volte Insieme a Fius Però lo conosco Relativamente poco Dico la verità Poi vabbè Lo conosco come lo conoscete tutti Mio fratello Mio fratello Cumano Chisto Perché Beh bro Fate vedere Parodia credo Non so come le chiama Di Italo Disco Di Sbancatore Bro Ah di Cumano Chisto Com'è che fa così? Come no come no Il tuo primo amore Nome e cognome vogliamo E la salutiamo È Leonora Maglietta È il tuo primo amore eh? Sì 16 anni Ecco adesso Dai 16 ai 17 Adesso tutti le scrivono No ragazzi calmi eh Mi raccomando Che è la promessa sposa di Cristo Siamo in buonissimi rapporti Dico la verità Anzi è una cosa bellissima questa Perché Sì sì Siamo stati innamorati Però comunque era Era un amore comunque sai Eravamo piccoli Quindi non era la cosa Cioè la relazione con quello adesso Anche se non sono fidanzato Quindi poi il fatto che comunque Dopo varia Dopo tanti anni Comunque siamo ristretti Noi adesso ci vediamo anche Capito Senza Senza secondi fini Ci vediamo per parlarci Perché comunque ci vogliamo tanto bene Molto bene Allora ci colleghiamo a questa bellissima domanda Di sempre lui sicuramente Colui che promette Chiede L'ultima volta che hai fatto sesso Rispondo io Fra tre ore Ci vediamo a muovere Perché se no non lo fai Giusto Infatti dai Mannaccia Mannaccia Questo video vi farà andare in rovina Antonio chiede Porterai altri tipi di contenuti Oltre al calcio Allora Diciamo che non si può dire Però ragazzi Io voglio ricordare una cosa Io e Jay Pata Eh questo è vero Siamo stati i primi Influencer calcistici In che senso I primi influencer Che basano il loro canale I loro contenuti Sul calcio giocato Perché noi Io mi siamo nati Praticamente allo stesso Sesso periodo Settembre 2023 2022 Ti dico che Tu vabbè ti sei un po' spaziato Con canzoni e tutto Io invece sono rimasto Verticale sul calcio E voglio restare Sì tu dici Due ex professionisti Che diventano youtuber calcistici Sì ma io dico proprio Che contenuti che portavamo Cioè che portiamo Alla fine E se sono calcio giocato bene Prima comunque Andavano sul campo A fare challenge e tutto Però comunque Era più Non era la stessa cosa Certo Dopo un anno e mezzo Pata possiamo dire Di essere un po' i pionieri Di questi nuovi influencer calcistici Calcistici che sono bravi A giocare a calcio Sì 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 E ne stanno nascendo tantissimo Ultimamente Mi fa strapiacere Perché comunque Stiamo creando una sorta di movimento Esatto E ci penso È vero è vero Essere Simone Crispo Fa scopare di più Ci sono anche questi tipi di domande Molto interessanti Ti dico la verità Guarda io essendo che sono Molto 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 verticale sul calcio I miei follower Sono tutti maschi È vero Quindi fondamentalmente Ed è per questo Che io ho fatto le canzoni È spaccato È iniziato È iniziato È iniziato Comunque è spaccato Non ci metterà a fare pure Una canzone A 5.000 like Uscirà la canzone Tutta napoletana DJ Pata Eh ma devi scrivere tu però Eh tranquillo Come andavi a scuola da piccolo Allora abito al centro Quindi andavo a piedi No non è vero Guarda Devo dire la verità A scuola sono sempre stato bravo Ho avuto tipo alle superiori Ho avuto solo un debito In 5 anni E la madonna Quindi poi Sono uscito con 60 Però minimo Per dare il massimo Cosa hai provato Appena sei entrato in campo A Napoli Juventus Finale di ritorno Mamma mia Steppi Un saluto a Steppi Che verrà il saluto Saluto È stata È com'è Infatti volevo chiederlo Perché non ho mai parlato Però è stata Penso È come giocare a San Siro Sì Fra è stata una delle emozioni Più grandi della mia vita Anche perché Ma c'era tanta gente Però stavano 5.000 persone Ma la gente sui palazzi Poi ci stavano gli spalti grandi Quanto tutto il campo Tutti pieni Fumogeni Cori Bandiere Ma davvero Gente sopra ai palazzi Gente sopra al muretto Fra era una cosa incredibile Cioè E là io realmente Ho capito Cosa stava andando a fare Con questo percorso E infatti ringrazio Tutti i ragazzi Che puntualmente ci seguono A noi Napoli YouTube È youtuber lì Grandissima competizione Si può dire Bravo 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 Quali sono i 5 più forti A calcio su YouTube Secondo te Escluso te Allora Ti dico Non te li dico in posizione No 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 Senza posizione Tu Dobbiamo percorso qua Ovviamente L'avrei detto in qualsiasi circostanza Tu Sergio Fratino Luca E Porrini E Porrini Sì ovviamente Non me ne vorressero gli altri Tipo non so Carpani Figa e tutto Però loro Sono un passo Forse Luca ultimamente Perché sta un po' fuori forma Quindi magari mettere Ma Luca Si è sposato Si è mangiato un cinghiano Eh sì sì No si è tagliato i capelli Ha perso di 3 kg Eh infatti Speriamo che l'ho visto ingrassato Quindi se l'evoluca Magari posso mettere Secondo me dobbiamo stare fuori Dalla got league Stiamo più sulla youtuber league Diciamo Ok allora Nella youtuber league Ti dico Vabbè sempre tu Fratino Sergio perché fa la youtuber league Vabbè contano anche i portieri Insta keeper Per me Perché insta keeper Per me è fortissimo E ti dico un quinto Zacchiglia Questa qua la rispondi a me Nell'orecchio Più o meno Vediamo se ne indovinate Chi pensi sia il più sottovalutato E sopravvalutato Di youtuber Nell'ambito calcistico Ti trovi Sì 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 Sottovalutato Vabbè lo possiamo dire Per me Zacchino Zacchino Perché è considerato poco Rispetto a quanto è forte È vero è vero È vero Sono d'accordo Gol più bello Cogliolimpo che ricordi O gol più bello E gol più bello In seconda categoria Cioè che proprio Due gol che ricordi Sia con l'Olimpo Che con la Belsito Cogliolimpo mi ricordo Il gol Se non mi sbaglio Il primo gol Che feci nella summer cup Ma la seconda summer cup Che facemmo Cogliolimpo Cogliolimpo Sì Praticamente È una palla in me Cioè non è stata Un gol tra virgolette Banale Però era abbastanza importante Che palla e mezzo Io mi sono girato Su crspera E ho calciato Sì Mentre la seconda categoria Forse proprio Forse è proprio L'ultimo Che ho fatto a Marano Ho messo anche il reel Da fuori aria Che non ho fatto Gol belli Ne ho fatti tanti 22 gol Però non ne ho fatti I belli Eh mica 22 gol Bene Perché hai scelto Come nome youtube Il tuo nome e cognome Non un nome d'arte Ovviamente ne abbiamo parlato Di questa cosa Prima di mettere Il mio nome e cognome Perché praticamente Quello che volevo andare A fare io Era appunto Rappresentare Un calciatore Su youtube E i calciatori Non hanno soprannomi Diciamo I calciatori sono chiamati Per nome e cognome Fred Simone Guarda Questo qua Guarda quanto Ce l'ha fatto lui 10 9711 Ci ha fatto circa 50 domande Guarda Guarda quante sono Quello è lui Che si mette E si autorisponde Alla storia Ma mica Sono evolute Come domande Come pensi Che si evolverà youtube Nei prossimi anni Allora Ti parlo un po' Del mio settore di youtube Quindi il settore calcio E come abbiamo detto prima Stiamo adesso Facendo parte Di un movimento Che si sta creando Che è quello Dell'influencer calcistico Certo Appunto anche grazie Alla gotta La youtuber league E tutto Quindi spero Che tra un paio d'anni Comunque Si continui a creare Questo movimento E vada avanti Qua abbiamo un dottore Vieni dottore Vieni fai una foto Con noi Tu vai al parco A farti una passeggiata E beh chi sta roba qua Hai visto Grazie Ciao campione Ciao bello E stai la cosa più bella Quando eri alle giovanili Hai giocato con qualcuno Che ora è professionista Si Gianluca Gaetano Minchia mio fratello Io stavo nell'apoli Con Gianluca Gaetano Anzi ti dico Che eravamo anche tanto amici Cioè nel senso Sai che si creano Un po' come gruppetti 3-4 persone Ma tu sei 2000 Io sono 99 Però lui venne preso L'anno prima Cioè mi venne preso Quando il 99 Era il primo anno Per il 99 E lui era già stato preso Da 2000 Un consiglio Per chi vuole giocare Ad alti livelli Un consiglio È migliorare Il lato atletico Più che il lato tecnico Perché a una certa Il calcio Il calcio di un certo livello È anche molto più atletico Che tecnico Perché praticamente La tecnica È una cosa Che comunque puoi migliorare Ovviamente se stai sempre Su un campo della calcio Sempre a fare passaggi Tiri e tutto Però l'aspetto fisico È importantissimo Perché ti aiuta A recuperare Quello che magari ti manca Le lacune che ti mancano Sia tecnicamente Che mentalmente Perché è anche uno sport Di testa il calcio Che sia chiaro Chi è la persona Più importante della tua vita La persona più importante Della mia vita La mia nonnina Davvero Assuntina Vitamina Dove ti tagli i capelli Mi ne taglio vicino a casa mia Non so come si chiama Aircut si chiama Aircut Tipo una cosa Aircut Aircut Sì Però da noi si dice Andiamo da Enzo A tagliarci i capelli Quindi Prima in Italia domenica Quindi ciao domenica Un bacione Qual è la routine di Crispo? La mia routine È Vabbè Mi sveglio Programmo un po' i video Un po' Diciamo che Oltre a programmare le cose Perché uso Google Calendar Sul telefono Cioè nel senso Mi programmo tutto Io c'ho l'agenda ancora Quella che si apre Si chiude Però guarda che buona Nel senso Io ho provato Quella scritta Però poi il fatto È che il nostro lavoro Che comunque Una settimana Magari fai mille cose La settimana dopo Non fai un c***o Minchia è vero Ti manda a male Purtroppo non c'ho una routine Se c'è vera Diciamo come le persone Che vanno a scuola Vanno all'università Purtroppo Perché è la cosa più brutta Al mondo Non avere una routine Dici difensore creator Più difficile da affrontare E invece quello meno complicato Perché? Se parliamo sempre di youtuber league La maschera colpo gobo La maschera La maschera Sei scarsista Sei una m***a Invece il più complicato Ti posso dire Guarda che è rognoso Sciale boom Sciale boom Lo stavo per dire Ero rognoso Anche se non sembra E non è Anche lui sottovalutatissimo Se posso dire Molto sottovalutato In difesa si Però vai di un sciale No no Sciale è un bel Il cane rognoso Qua dobbiamo Guarda quanto Guarda Guarda Ah bro Vabbè ci tenevano allora Ragazzi grazie Perché voi napoletani Siete così antisportivi Parlo principalmente Di tuoi cugini Ero via Della squadra perfetta Non si tratta di antisportività Si tratta di un peso diverso Che dà dalle parole Delle persone E' vero dai ragazzi Che se un napoletano Dice una cosa E' un peso Se uno lo dice un'altra Non lo voglio fare Non voglio capito Soprattutto se lo dice Fusegamer o Mirko Si se lo dice Fusegamer o Mirko Qualsiasi cosa dicono Sono bombardati Ma semplicemente Perché sono loro Ragazzi se li bombardate Anche di insulti Ricordate che stai sempre commentando Grazie 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 in oro Che commentate Bombardate pure me Di insulti Posto più strano In cui l'hai fatto Allora Ti dico Lido Che frequentiamo sempre I miei amici Adesso non dico Comunque l'ho fatto Dentro alla cabina Dello spogliatoio Del Lido Magari passava anche Tipo la mamma Del mio amico Sentivo la voce C'è stata una cosa stranissima Più d'altro Poi immagina Uscire Bello In due Da dentro Bello bello La cosa più dolorosa Che ti sia capitata Nella vita Il morso della tracina Praticamente è un pesce Che vive Sono a Napoli Viva la tracina Bro ma quando Ma che c***o La tracina Bro è un pesce Che vive praticamente A pelo Con la sabbia Bro che tu La soglie Ma quale soglie La tracina Fra si chiama tracina Poi non lo so Adesso vado a cercare È vero Tracina Tracina fra Vi giuro Allora praticamente Vivono sotto la sabbia Proprio a pelo Tu metti il piede sopra E alzano un pungigliore No Ok fanno Però ti giuro Allora ti dico Che l'ape Mi ha morso un'ape Mi ha morso una vespa Che mi viene Più che n'è Se un gatto Mi è saltato addosso La medusa Ma la tracina Ragazzi La tracina Ma perché Scusa Mi sono pisciato Tre volte sopra il piede Perché È tipo un morso della medusa Che serve Per far passare il dolore È un dolore atroce È un dolore atroce Che ti giuro Le persone che hanno avuto State punte dalla tracina Lo dicono anche loro Che è la cosa più dolorosa Che hanno passato Frate ti giuro Ma sangue? No Ti pulsa tutto Mi sono anche rotto varie ossa del corpo Cioè nel senso Mi sono rotto il naso due volte Il metatarso due volte Non è niente rispetto Tracine Siete Delle Cosa ne pensi di Hope Samuel? Samuel È mio fratello Cioè Samuel lì Voglio un mondo di bene E mi dispiace ovviamente Adesso torna Torna in campo Eh sì Io ho visto il video Che ha messo ultimamente Praticamente ci vuole Un altro mesetto Perché comunque sente ancora dolore Però mi dispiace troppo Perché lui era l'ultima persona Che doveva passare questa cosa Proprio perché È un ragazzo d'oro Un ragazzo umile Sincero Che ti vuole realmente bene Non ha una doppia faccia Perché poi Poi in tutti i mondi Le persone hanno le doppie facce E noi siamo molto molto amici Anche al di fuori di video E tutto Io sono andato a trovarlo Quando si è fatto male Per dirti Io sono andato a trovarlo Non ho fatto manco un video Fra perché non mi interessa Eh no no Io sono andato per amicizia Lo saluto E spero di fare un'altra partita con lui Ultima The last Quanto alzi al mese? A Milano Quanto alzi al mese? Quanto alzi 100 Ai 1200 Ai 1300 Ragazzi Vi mandiamo un saluto Vi ringraziamo per le migliaia di domande Che avete fatto a Crispo Come al solito Ne avete fatte tante Molto simili Quindi abbiamo selezionato Quelle un po' più elaborate Mio fratello Simone È venuto fino a Milano Solo per questo video Solo perché ho detto Pata Voglio registrare le domande Peccato che io adesso devo andare Al palone d'oro Venerdì e sabato In treno Tornare Poi devo andare Una sorpresa Devo fare Una sorpresa Non si può dire Però c'entro anche io Potete immaginare Vado da lui Settimana prossima Di nuovo a Napoli Con l'aere Buongiorno E torno Fai quello che faccio io Ogni volta che vengo a Milano Grazie mille Fratello Grazie mille Una persona d'oro Merita almeno 10.000 mi piace Almeno Ti ho detto che 5.000 pezzi In napoletano di J.Pato Ragazzi Ne vale la pena Cliccate il like Giuro che lo faccio Ciao ragazzi Ciao Adio